Siamo qui per dire ciao a Sara, siamo qui per ringraziare il Signore per avercela data e siamo qui perché tutti noi siamo stati travolti dalla sua intraprendenza, dal suo entusiasmo, dalla sua capacità di coinvolgere le persone e perché il Signore l'accolga nella sua luce. Con queste parole il vicario Don Marco Presciutti accoglie amici, colleghi di lavoro, compagni dell'AIS o semplici persone che hanno avuto un contatto con Sara prima di celebrare la messa funebre nella chiesa di San Biagio a Cucurano. Alle 10.10 di questa mattina il feretro di Sara entra in chiesa e con lei tantissima altra gente che si era siepata fuori dalla chiesa ad attenderlo. Persone che la conoscevano bene come la folta rappresentanza dei colleghi sommelier dell'AIS Marche, arrivati da tutte le delegazioni marchegiane di tutte le province ma anche da Gubbio e dall'Umbria, imprenditori che l'hanno ospitata in una delle sue tappe della staffetta del Bianchello, una delle sue invenzioni per promuovere il territorio o amministratori pubblici che la stimavano come il sindaco di Fano, quello di Colli al Metauro o di Isola del Piano. Grazie ancora a entrambi e un brindisi al Bianchello. Un grazie particolare Don Marco lo ha voluto rivolgere alla famiglia Bracci, dei genitori e alle sorelle Anna e Lucia e dal compagno. Siamo colpiti, dice il sacerdote, dalla fedeltà del compagno di Sara vicino a lei sino all'ultimo, colpiti dall'amore di questa famiglia che ha travolto tutti. Siamo colpiti, continua Don Marco, perché la morte è sempre un po' ladra, si infiltra, arriva inaspettata per un incidente, una malattia, ma è Dio che ci ricorda dove siamo noi. Prendendo spunto dalla lettura del Vangelo secondo Giovanni della Ressurrezione di Lazzaro dove Gesù si mostra più umano che mai commuovendosi sino alle lacrime per la morte di Lazzaro e lo resuscita per mostrare la grandezza di Dio verso chi crede in Lui e noi siamo qui, dice il sacerdote, per sentire che Dio c'è. Dio non può sottrarci alla morte, non può evitarci il sepolcro, siamo segnati dalla finitudine, ma ci dà una speranza perché la morte non ha l'ultima parola e per questo Gesù grida davanti al sepolcro di Lazzaro, vieni fuori. Sarai morta, conclude Don Marco, ma vive in Dio. Poi, conclusa la cerimonia, la bara bianca che custodisce le spoglie mortali di Sara esce alle 11.30 dalla chiesa tra due ali di folla che, come la famiglia e il compagno di Sara, hanno dato prova di un dolore misurato e composto per raggiungere il cimitero del Ferretto dove poi verrà tumulata.